ok guardate adesso ragazzi adesso guardate qua ho preso tante cose guardate adesso spocchettiamo wow ragazzi non credete alle queste cose non ci crede ma però ci sono i figli ok ragazzi guardate qua è una bestia guardate adesso ragazzi passano che mi trovate in Italia con tutta la mia bench ma però io non riesco a togliere questo sletto aspettate ragazzi ok ragazzi aspettate ragazzi ok ragazzi oh bravolo ragazzi io ho tolto una gamba ragazzi oh scusatemi se mi chiamo ragazzi ma la parola ragazzi l'ho chiamato con il suo intrasmettino di dire ragazzi allora ragazzi allora dove sta il mio soldatino eccolo qua il mio soldatino eccolo qua il tuo soldatino dolce biscotto ah ecco il mio soldatino ah no soldatino adesso dobbiamo togliere l'anima guardate ragazzi adesso ragazzi guardate ho preso una marea di questi qua guardate ragazzi ho preso questo lui con l'arma guardate una cosa pazzesca è questo questo bestione che cammina no ragazzi ragazzi non vi scordate che alle 7 di pomeriggio sto là a una maratona ma io non sto nel film maratona quindi io ho mentito mi dispiace tanto sono tipo gli altri youtubers sono fichissimi vanno da tutte le parti ho visto le foto e ne sono un po' gelosino ragazzi mettete un like se questo video vi è piaciuto vi sta piacendo spero che vi sia piaciuto lasciate un like e alla prossima vi è il prossimo regalino ciao ciao